Ciao, trova un nuovo amore. Se hai voglia di trovare un nuovo amore, di creare una nuova relazione sentimentale, perché magari sei deluso o deluso dalle vecchie relazioni o comunque vuoi cimentarti, vuoi metterti in gioco, puoi venire giovedì 30 marzo a Savona perché farò un incontro per far conoscere dei nuovi single, una pericena molto simpatico, carino, dove potrai conoscere altri single che come te vogliono comunque ricostruirsi da un punto di vista sentimentale. Quindi se sei interessato, contattami pure al 333 15 11 703, l'appuntamento è giovedì 30 marzo a Savona alle ore 20 in un locale che si chiama Pepita, nella zona del porto, nella Darsena in via del molo 12 e ci sarà anche un mio intervento di formazioni, diciamo, sulla gestione delle emozioni. Inizialmente poi ci sarà una pericena dove potrai, faciliterò l'incontro tra le persone in modo tale che potrai conoscere persone nuove con le quali magari intraprendere anche una relazione sentimentale se si crea quel feeling, con l'empatia che spesso si crea quando delle persone hanno gli stessi intenti. Quindi ti aspetto giovedì 30 marzo a Savona. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se farli dal vivo o via video. Nel box trovi tutte le info per, diciamo, la pericena single di Savona. E comunque ti ricordo che il riferimento è sempre il 333 15 11 703. Ciao!